musica musica e benvenuti ragazzi e benvenuti ragazzi benvenuti in questo video ok ragazzi non siamo c'è un videogioco ma siamo in un vlog che non sa quando esce non è possibile solo con la moschilina ragazzi per la seconda volta perchè la prima volta sono uscito non sa quando esco attenzione ragazzi questa via è sempre pericolosa perchè compagno un sacco di macchine oggi facciamo una festeggia insieme e mi guarda e attenzione da qua vediamo i giri in giro in giro in giro in giro la città lasciare tantissimi like per il prossimo blog no ok ci sono troppo ho le mie impressioni che mi si vede scendendo qua ok buca 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 mangia buca non sa quanto durerà farò di tagli ma comunque questo video è inaspettato perchè oggi è la festa della mamma guardo tutte le mamme vi ascolto una buona giornata questo è il nuovo vlog che porto spero che vi piaccia ecco qua il quadro questa è la bandiera del piano ce lo faremo non so che te lare di vista perchè più tardi controllo io andiamo attenzione non si è stupendo non ci sono Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.